Nel cuore dell'estate continuiamo e torniamo a parlare di intelligenza artificiale, questa tematica che ormai sta tenendo banco in maniera quotidiana, potremmo dire nella vita di tutti i giorni, nella nostra vita, ma anche nei vari commenti che a proposito di questo ulteriore progresso della scienza umana si sta portando avanti. E allora voglio salutare e ringraziare il professor Giovanni Tridente, che potremmo dire dell'intelligenza artificiale è un po' il nostro uomo di fiducia, perché tante volte abbiamo avuto l'opportunità di parlare con lui di questa tematica e oggi approfittiamo della sua disponibilità per continuare a farlo. Buongiorno Giovanni, bentrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e grazie a voi piuttosto per l'invito. Allora, ne vogliamo approfittare anche per ricordare una pubblicazione recentissima che assieme a Fabio Colagrande e il professor Giovanni Tridente ha mandato in stampa 50 domande e risposte sull'intelligenza artificiale. Si tratta ovviamente di un'opera editoriale che si avvale anche dei contributi di colleghi giornalisti, studiosi della tematica e che vuole essere anche un po' il linguaggio scritto di quanto Giovanni avete portato avanti insieme a Fabio Colagrande in un podcast dedicato proprio a questo argomento. Sì, esatto. È un podcast che è andato in onda per alcune settimane su Radio Vaticana e fondamentalmente volevamo dare alcune pillole per andare incontro a delle domande anche semplici, delle persone semplici come noi che si pongono delle questioni rispetto a questa tematica che ormai è di profonda attualità. E quindi poi abbiamo tratto questo volume anche per accontentare le persone abituate a sfogliare la carta. Anche perché il format del domanda e risposta è molto efficace, quindi aiuta a non essere troppo teorici direi, ma a focalizzarsi direttamente poi sulla risposta stessa. Il tema dell'intelligenza artificiale noi lo vogliamo riprendere Giovanni, cari amici, anche a proposito dell'ultima vetrina mondiale, potremmo dire così, che questa tematica ha avuto nelle scorse settimane perché ricorderete alla metà del mese di giugno c'è stato il G7 qui in Puglia a Savelletri e uno degli invitati speciali, la prima volta di un pontefice appunto al G7, Papa Francesco invitato dalla presidenza di turno italiana, Papa Francesco ha voluto offrire un interessante discorso a proposito dell'intelligenza artificiale che ancora oggi viene indagato per alcune questioni fondamentali. Papa Francesco ha posto una visione unica di questa tematica a partire proprio dalla condizione umana che il Papa ha definito tecno-umana. Allora Giovanni ti chiederei un po' di aiutarci a focalizzare le parole di Papa Francesco relativamente all'intelligenza artificiale, ti chiederei perché sono importanti e perché proprio in quel contesto hanno risuonato in maniera forte. Sicuramente uno degli aspetti fondamentali di questa visione del Papa nel definire una condizione in cui tutti ormai ci troviamo è quella della irreversibilità. Quindi dobbiamo oggi fare i conti con questa tecnologia così evoluta, che evolve così frequentemente, considerandola un qualcosa di inseparabile dalle nostre esistenze. Per cui questo chiama in causa anche la necessità di concentrarsi su ciò che è bene attraverso l'uso di queste tecnologie, ciò che ci può provocare dei problemi e dei rischi. Allora principalmente però bisogna partire da questa consapevolezza di una tecnologia che estende anche le nostre abilità, le nostre capacità umane, per cui a maggior ragione richiede un'attenzione e il Papa ne ha parlato in un consesso con governatori, con politici e con coloro che si occupano poi di regolamentare un qualcosa che avrà un'evoluzione sempre più accelerata proprio per le modalità in cui è concepita e con cui si sviluppa, però anche allo stesso tempo con la necessità che i governi hanno di creare dei paletti, se vogliamo, ma anche di favorire lo sviluppo delle popolazioni a loro affidate attraverso l'uso di queste tecnologie. Un qualcosa che dicevamo di irreversibile e che accompagnerà, che evolverà insieme all'uomo negli anni a venire. E in effetti sono tantissimi ormai gli ambiti, potremmo dire quasi tutti, azzardo, gli ambiti interessati dall'intelligenza artificiale. Io mi vorrei concentrare su alcuni che voi anche assieme a Fabio Colagrande avete un po' descritto nel volume che prima citavamo, il lavoro, l'informazione, la medicina, l'accessibilità e la didattica, che già da ora sono interessati e sono ambiti importantissimi. Figuriamoci poi anche gli altri, dei cambiamenti suscitati dall'intelligenza artificiale. Ma di quali novità nel concreto parliamo? Perché questa intelligenza artificiale può risultare anche decisiva per i progressi negli ambiti di cui abbiamo parlato, ma anche in tanti altri? Se pensiamo all'ambito del lavoro, sicuramente tutto quell'aspetto di automazione dei processi che l'intelligenza artificiale apporta permette di evitare quei compiti ripetitivi e quel dispendio di risorse che poi fondamentalmente in alcuni casi sono anche pericolosi in alcuni contesti. Invece le macchine possono sopperire anche a questa pericolosità. Aumenterà sicuramente l'efficienza, aumenteranno i processi più veloci e allo stesso tempo la possibilità di dedicarsi ad altre attività più cognitive, se vogliamo, più strategiche. E questo solo pensando all'ambito del lavoro. Se pensiamo anche all'ambito della medicina e alla possibilità di migliorare la nostra salute, già da alcuni anni evidentemente c'è questa evoluzione, questo migliorerà sempre di più, sia nella fase, se vogliamo, della diagnostica delle malattie, ma anche nella capacità di gestire meglio il decorso, anche se vogliamo, di guarigione o nel contesto della medicina. Se anche ci riferiamo all'ambito dell'educazione, notiamo una sorta di democratizzazione e di una apertura maggiore che grazie allo sviluppo, per esempio, dell'intelligenza artificiale generativa, quella che simula anche il linguaggio umano, è permesso nell'ambito dell'insegnamento, nell'ambito anche dell'apprendimento, con una possibilità di personalizzare evidentemente l'accesso ai contenuti, la fruizione, ma anche andare al passo di ciascuno proprio per migliorare le proprie competenze e le proprie capacità. Io spero che i nostri amici telespettatori abbiano colto il fatto che Giovanni non ha mai detto che l'intelligenza artificiale si sostituisce all'uomo. Ed è fondamentale questo passaggio perché è qui che si gioca un po' anche la partita decisiva, se vogliamo, e che sono poi anche in fondo le preoccupazioni di Papa Francesco espresse chiaramente anche all'interno del discorso pronunciato ai grandi della Terra. L'intelligenza artificiale non si sostituisce all'uomo ma è di aiuto all'uomo. Dunque non può essere distruttiva e l'auspicio è che continui in qualche maniera a rimanere tale, dico bene? Sì, a me piace usare la parola alleanza. Siamo di fonte a un qualcosa che si allea a noi, incrementa le nostre abilità e le nostre capacità in vari settori come abbiamo visto e allo stesso tempo ci permette ancora di più di comprendere meglio quella che è la nostra unicità come esseri umani. Saremo noi a governare questi strumenti, a governarli nel miglior modo affinché sia di sostegno e di aiuto in tutto ciò che ci occupa, in tutto ciò che può incrementare, come dicevo, le nostre capacità e le nostre esperienze. Avere una visione pessimistica invece ci porta a concentrarsi piuttosto sui pericoli, sul lato, direi anche il lato sbagliato dello sviluppo tecnologico. Questi pericoli, questi problemi devono rappresentare delle sfide affinché noi occupandoci della soluzione di questi problemi continuiamo a mantenere la nostra centralità. Ci sono i temi etici, ci sono i temi della responsabilità, c'è il tema della privacy, anche dell'equità sociale. Sono tutti aspetti che soltanto noi come esseri umani possiamo e dobbiamo alimentare. Le macchine da sole non lo faranno, le macchine da sole non si danno dei compiti, le macchine possono rispondere, ma rispondono a delle domande che saremo sempre noi umani a farci e a fare. Per chiudere, Giovanni, dal punto di vista ecclesiale, l'intelligenza artificiale, come può essere d'aiuto? L'aiuto che viene dalla Chiesa è soprattutto un aiuto spirituale, se vogliamo, da una parte, e anche di comprensione e di stimolo nella vera consapevolezza di questo fenomeno. Evidentemente poi c'è anche un uso diretto, che potremmo dire, nell'applicazione di alcuni sistemi di intelligenza artificiale, che potremmo adottare nella pastorale, nella catechesi, però questo è più l'ambito applicativo. Quanto invece anche resta importante, la Chiesa lo fa da diversi anni, devo dire, l'ambito della consapevolezza etica e culturale di questo settore. Per cui lì dobbiamo puntare a mantenere sempre la centralità dell'uomo, a lavorare sull'ambito antropologico e siccome la Chiesa è madre e maestra e si prende cura del popolo che Dio gli ha affidato, evidentemente questo accompagnamento di vicinanza e di, potremmo dire, sprone a utilizzare per tutto ciò che migliora la specie umana, queste tecnologie, è presente e lo sarà sempre di più. E allora ricordiamo, 50 domande e risposte sull'intelligenza artificiale di Giovanni Tridente e Fabio Colagrante per questi e altri quesiti. Io penso che questo sia un volume in progress, perché le domande si accumuleranno con il passare dei giorni, con il passare delle settimane ed è importante saper rispondere e rispondere anche in maniera onesta rispetto ai quesiti che poi tanti di noi si porranno su questo tema così fondamentale. Nel frattempo Giovanni io ti ringrazio per essere stato con noi augurandoti una buona estate e non so se tu hai scelto le tue vacanze in base all'intelligenza artificiale. No, non le ho scelte in base all'intelligenza artificiale, ma tornerò nella vostra terra, quindi con molto piacere anche io vi auguro una buona estate. Grazie, grazie a Giovanni Tridente per essere stato con noi. Adesso andiamo in pubblicità e poi ancora insieme.